Ma ho il dovere di controllare l'efficienza di questo veicolo. Voi state trasportando il patrimonio più prezioso della nostra città. Non ti sembra un po' tanto efficiente uscire d'estate col mantello? Scendete tutti e due e smontate le ruote del furgone. Cosa? Che dobbiamo fare? Per me ha preso un colpo di sole. Secondo il paragrafo 41, un ufficiale di polizia ha il diritto, anzi il dovere, di far smontare anche tutto il veicolo. Ma Zangal, da quasi 30 anni ormai sono il tuo migliore amico. Un poliziotto non possiede amici. Sì, questo furgone è autorizzato a trasportare un bue. Tra un toro e un bue c'è una notevole differenza di peso. Non so se mi spiego. Zangal, già a scuola eri il più sommaro di tutti. Figuriamoci adesso che sei diventato anche poliziotto. No, aspetti, Borgomastro, mi ascolti. Perché non portiamo in Francia anche il nostro brigadiere? Già, che cosa? Ma sì, così potrà controllare il furgone durante il percorso. No, è proprio impossibile, non si può fare. E vediamo, forse col paragrafo 5 si potrebbe, ma... E vediamo. Grazie.